Buongiorno a tutti. Eccoci ai webinar elite, i webinar che hanno come ospiti dei nostri clienti, dei nostri partner, ricercatori e oggi l'argomento sarà BIM, workflow, modellazione parametrica, modellazione digitale per arrivare alla modellazione strutturale. Edifici esistenti, tutta una serie di argomenti che... Vediamo se riesco a far partire anche la nostra slide. Tutta una serie di argomenti che conducono proprio al titolo del webinar, procedure per ottenere il modello tridimensionale per il software di analisi strutturale e per il software BIM. Parleremo di edifici esistenti, parleremo di edifici storici, parleremo di opere particolarmente complesse, opere che poi dal punto di vista strutturali devono essere modellate generalmente con modellazioni FEM tridimensionali solide. Quindi non le schematizzazioni classiche per travi è un argomento che interessa sempre di più, che si interseca sempre di più con i workflow della digitalizzazione del progetto e siamo oggi qui a parlarne anche con il nostro ospite che tra poco vi presenterò. Però intanto benvenuti a questo Elite Webinar e che ormai conoscete molto bene. Oggi il Elite Webinar durerà circa un'ora e avremo anche modo di interagire tra di noi perché potrete porre delle domande nella chat che trovate alla vostra destra. Siete già un bel numero, vi invito a scrivere domande, vi invito a dirmi se anche magari se sentite bene. Ecco già un ingegnere, un collega che ci saluta, saluto Giovanni. Quindi queste domande io le raccoglierò e alla fine riporterò le domande al relatore per avere una sessione di domande e risposte. Quindi utilizzeremo la chat per interagire. Però non ci sarà solo questo perché avremo anche dei brevi sondaggi con i quali vogliamo conoscerci tutti quanti meglio. Quindi vorrò chiedervi alcune domande con delle risposte predefinite. Speriamo di avere tra le risposte predefinite la risposta che vi trova più d'accordo o comunque la risposta che va bene a voi. E quindi avremo anche questi sondaggi che poi io, diciamo, i risultati mostrerò a tutti voi. Così capiremo un po' la community di questa giornata, a che cosa è interessata, circa gli argomenti che stiamo trattando. Questa sessione è registrata, quindi alcuni di voi la stanno seguendo su YouTube. Quindi non possono ovviamente interagire nella versione registrata, però per coloro che ci seguono su YouTube raccomando, visto che tutti gli YouTuber ormai lo dicono, lo dico anch'io, cliccate il like, cliccate il pollice alzato perché questo ci permette di rendere popolare questo video e di farlo vedere ad altri colleghi che possono raggiungerlo con i classici motori di ricerca. Quindi siccome è gratis vi chiedo di cliccare il pollice alto sulla finestra che ben conoscete su YouTube. Bene, ora iniziamo. Eccomi, io sono l'ingegner Paolo Segala, assieme al mio socio ingegner Luigi Piggio conduciamo CSP FEA e l'ospite di oggi è l'ingegner Restuccia che invito ad attivare il microfono e a salutarci. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao, ciao carissimo. Allora, 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 benvenuto, benvenuto. Io direi che siamo già pronti e quindi vorrei assegnare a te il ruolo di redattore perché cose ne hai da dire. Poi io durante questa presentazione vorrei ogni tanto, come ti dicevo, fuori onda interromperti per lanciare qualche sondaggio e contemporaneamente terrò sott'occhio le eventuali domande che i partecipanti vorranno fare. Siamo ormai, come prevedevo, già una cinquantina di partecipanti, siamo un bel numero. Sono quelle dimensioni che quando facevamo i seminari in presenza erano ideali per poter interagire. Adesso siamo a mia distanza e cerchiamo comunque di coinvolgere tutti a fare le loro domande e a dialogare con te che oggi sei qui a raccontarci queste cose. Poi racconterò ancora, Christian, darò qualche indizio anche su circa la rivista che noi abbiamo, cioè Digital Modeling, perché sulla rivista trovate, stavo proprio guardando prima di iniziare questo webinar, trovate molti articoli che trattano gli argomenti da te trattati oggi, cioè il workflow digitale, la modellazione parametrica, la modellazione da nuvole di punti per arrivare poi al modello numerico di calcolo. Quindi farò qualche citazione delle riviste che i nostri partecipanti conoscono, chi non la conosce lo invito ad andare a vedere sul sito cspfea, poi darò qualche link così nella pagina della chat troverete qualche link dal quale scaricare degli articoli inerenti a questo tema. Un'altra cosa che vi vorrei dire prima di lanciare la presentazione dell'ingegnere Stuccia è quella che annuncio oggi, un po' per la prima volta, anche se l'abbiamo già abbastanza comunicato, è quella del nostro sito web cspfea.net, all'interno della quale, non so quanti di voi l'hanno visto, dovreste vederlo, abbiamo una novità, un assistente virtuale, lo vedete sulla destra, vedete su una finestra che si apre dove potete con la tecnologia dell'intelligenza artificiale digitare le vostre domande e andare a navigare meglio nel sito e anche a reperire informazioni. ci siamo accorti che all'interno del sito cspfea, soprattutto nella pagina di formazione e all'interno della formazione documenti tutorial, noi abbiamo una libreria vastissima di documentazione, questa è molto spesso sottovalutata da coloro che vengono a visitare il sito e abbiamo pensato di istruire, lo stiamo facendo, il nostro assistente virtuale con tecnologia di intelligenza artificiale a rispondere alle vostre domande. Quindi lo vedete, si chiama Minerva ed è, si presenta all'apertura del sito, trovate già alcune domande che sono quelle che ci accorgiamo sono le più proposte, ma per esempio quello che vorrei iniziare con questo, dallo scorso webinar e anche con questo webinar, quindi ci sarà anche un compito per te Cristian che ti chiederemo, di poter creare una base di conoscenza anche sugli argomenti che trattiamo nei webinar, quindi se volete poi approfondire ulteriormente il tema del webinar che avete visto, ad esempio in questo caso parliamo del webinar precedente, quello della scorsa settimana, Elite Webinar, che parlava di edifici alti, potremo per esempio, faccio un esempio, scrivere a Minerva cosa ci, cosa mi puoi dire, facciamo visto che sono da solo, mi puoi dire circa, facciamo il collaudo di edifici, edifici alti, eccolo qua, e lui ovviamente anche con, non so se, Cristian forse tu mi puoi dare un feedback se senti anche la voce, si sente, si sente, si si, ecco quindi per esempio in questo caso Minerva risponde dando un brevissimo, non è Minerva, colei che deve darci la formazione, ma ci deve indirizzare alla formazione, quindi è una sorta di tutor che ci indica quali sono i documenti, in questo caso il documento non è un pdf, ma è un video che permette di andare ad approfondire una cosa, così come se scrivo, magari più sgrammaticato, costruzione per fasi di edifici alti, vediamo se Minerva, ecco, la visione che permette l'impostazione della costruzione per fasi per tutti i tipi di struttura, compresi gli edifici alti, le consiglio la visione del seguente webinar, che tratta nel dettaglio la costruzione per fasi di edifici alti, prendendo come esempio il caso della torre Libreskin di Milano. Ecco, insomma, avete visto, è possibile dialogare con Minerva, fatelo, perché soprattutto se lo fate Minerva apprende con non proprio un meccanismo di machine learning, ma con un meccanismo che noi possiamo in qualche modo controllare e migliorare andando a modificare alcuni parametri, per chi di voi si occupa di analisi numeriche, è un po' una sorta di miglioramento della convergenza, quindi più lo utilizzate e più riusciamo a rendere precise le risposte di Minerva, e poi è anche un esercizio per vedere all'opera una tecnologia di intelligenza artificiale, in questo caso è la branca dell'intelligenza artificiale che si chiama conversational AI, cioè l'intelligenza artificiale conversazionale, ovvero l'intelligenza artificiale utilizzata per capire le domande che noi scriviamo o che vocalmente dettiamo, perché ovviamente tutto quello che voi vedete è funzionante sia in modalità scritta, io sono l'antica e mi piace digitare, ma con un telefonino è molto più facile, è molto più semplice dettare, e quindi c'è un riconoscimento vocale e di conseguenza poi il Minerva funziona esattamente come se stessimo digitando. Ecco, quindi una volta detto tutto questo, finalmente Cristian ti assegno il ruolo di relatore, e tu dovresti vedere il pop-up sulla tua schermata che ti permetta, ecco vediamo la tua presentazione, già in modalità di presentazione, sei espertissimo e quindi io spengo il mio microfono e lascio la parola a te, buona presentazione. Grazie, grazie. Grazie Paolo. Allora innanzitutto, procedure per ottenere il modello tridimensionale per i software di analisti strutturale BIM sarà un percorso che oggi faremo insieme, che riguarda sia opere realizzate con il Politecnico di Bari e sia poi opere come libero professionista. Partiamo subito perché è molto articolato. Da rilievo al modello 3D per il BIM è l'analisi strutturale. Allora, incominciamo a capire di cosa stiamo parlando. Innanzitutto si parte da un rilievo e quindi dall'ottenimento di una nuvola di punti. Ottenuta la nuvola di punti, poi vengono seguite delle procedure differenti. La procedura numero uno è che dalla nuvola di punti abbiamo una trasformazione in un modello 3D Mesh e successivamente convertita in NURBS o solida. Questo modello così ottenuto può essere esportato. La procedura numero due è che dalla nuvola di punti, questa nuvola di punti viene sezionata e successivamente trasformata in una maglia polisuperficie NURBS o solida attraverso dei procedimenti di estrusione 2D e 3D. In questo caso il modello ottenuto può nuovamente essere esportato. Poi andremo nel dettaglio di questa fase. Importazione quindi del modello 3D nel software Midasfea per quella che è poi l'analisi strutturale del modello. Quello che può avvenire però nella pratica professionale è non avere direttamente l'incarico di rilevamento della nuvola di punti. Potremmo avere l'incarico di modellare a livello FEM un modello tridimensionale. Quindi questo è il caso in cui abbiamo un modello 3D che non proviene da un rilievo in questo caso specifico generato dal programma Revit. Questo può essere importato in Rhinoceros attraverso un solido passaggio che si chiama RhinO Inside Revit e poi esportato in FENX per l'analisi strutturale del modello. Vediamo nel dettaglio tutte le procedure. Quindi il rilievo 3D con tutte le tecniche geomatiche ovviamente ottenimento della nuvola di punti, il modello 3D può essere ottenuto come? Attraverso Mesh e quindi avremo tutta una procedura o attraverso NURBS. Il BIM costruzione ed analisi strutturale, quindi questi due modelli hanno due scopi entrare in un software di calcolo che è capace ovviamente di prendere questi modelli e il BIM, un modello BIM come Revit in questo caso. Quindi l'indagine tecnica geomatica ovviamente ha tutta una sua teoria, un suo sviluppo, io qua sarò molto schematico. Le nuvole di punti ottenute attraverso le diverse procedure, quello che è importante capire è che devono unirsi tutte in un'unica nuvola di punti, quindi attraverso tutte le procedure che possiamo mettere in atto. Modello 3D di nuvola di punti. Cominciamo ad andare nello specifico. Io raccolgo questa nuvola di punti, la modello attraverso dei programmi specifici di modellazione Mesh, quindi dalla nuvola di punti ottengo una Mesh, questa Mesh ovviamente deve essere ottimizzata, ci sono diverse procedure di ottimizzazione, può essere esportato quindi questa Mesh ottenuta, importata nel software di modellazione tridimensionale di Noceros, trasformata in un modello 3D, superficie NURBS o solido. Questa è la nostra scelta, poi questa sarà una scelta che vedremo nel dettaglio con gli esempi pratici. Esportazione del modello 3D come superficie NURBS o solido, una volta ottenuto, e quindi abbiamo ottenuto un modello di superficie o un modello solido, servono entrambi in verità. Questo è un webinar dedicato al solido, però se io avessi come necessità quella di studiare una superficie, lo posso fare, mi posso fermare a uno step precedente, non è questo il caso però. Modello 3D di nuvola di punti, secondo metodo, non più Mesh direttamente ottenuta attraverso programmi Mesh, ma in questo caso c'è un'importazione della nuvola di punti in Rino, in Rinoceros, viene utilizzato uno specifico programma di gestione di nuvola di punti all'interno di Rino che si chiama Arena. Questa nuvola di punti viene a questo punto sezionata, con piani comunque inclinati nello spazio, vengono ottenute una serie di soccurve polilinie che devono essere trattate per la creazione di una superficie NURBS. Dalla superficie NURBS, step precedente, posso ottenere lo step successivo, che è quello di cui trattiamo oggi, che è la creazione dei solidi, esportazione del modello 3D come superficie NURBS o come solido. Ancora, polisuperficie NURBS ottenuta, cosa ne facciamo? Polisuperficie NURBS o solido, in formato parasolid o step, lo posso importare direttamente in un programma di calcolo strutturale come FEA, come GTS, sono gli stessi programmi, e a questo punto faccio tutte le mie analisi, tensionali, deformative, di sollecitazione. Oppure, utilizzo un'altra strada. La polisuperficie NURBS la vado a inserire in un programma di BIM, che tratta BIM, come attraverso un formato SAT, quindi un semplice passaggio, o attraverso il plugin RenoInside Revit, che mi permette, attraverso un linguaggio di programmazione, che si chiama Grasshopper, di controllare tutto il processo, e addirittura di parametrizzarlo. Quindi, parametrizzazione di oggetti BIM, e si va nel software Revit, che, per chi non lo conosce, è in grado di gestire progettazioni, manutenzioni, costi, gestione. Un programma molto ben strutturato. Autodesk Revit, quindi, cosa può essere però? Professionalmente parlando, può diventare la fonte del nostro lavoro. con il caso di uno degli edifici, che poi vedremo. Quindi, mi viene dato un modello tridimensionale, generato da Revit, da un ingegnere, da un architetto, da una società. Attraverso RenoInside Revit, lo prendo, lo parametrizzo, lo gestisco con un programma di programmazione, e lo inserisco in Reno. A quel punto, in Reno, Rino gestisce superfici solidi, del modello 3D che ho importato. In più, posso continuare su Reno. Reno è un programma di modellazione, molto spinto a livello tridimensionale, in grado di creare qualsiasi tipo di superficie, qualunque tipo di superficie. E quindi, mi può servire, introdurre all'interno di Reno, queste superfici più evolute, più complesse. E in più, ultimamente è stata introdotta la capacità di una mesciatura di tipo quadrangolare, quindi non più triangoli, ma quadrangoli. Quindi questo permette una gestione ancora più potente per quanto riguarda l'output che questi programmi riescono a dare, sia a livello di rendering, sia a livello di FEM. Analisi strutturale, quindi, a questo punto, l'oggetto ottenuto, rimaneggiato, può andare in FEA, o attraverso Grasshopper, modificato, parametrizzato, torno in Revit. Quindi, mi è stato dato un compito, analisi strutturale dell'edificio, questo edificio quindi è esistente, io lo porto in Reno, con Grasshopper riguardo di programmazione lo modifico, posso anche fare degli interventi strutturali in FEA, torno di nuovo in Reno, gestisco parametricamente questi interventi, e torno in Revit. Quindi è bionivoco, il passaggio è bionivoco e continuo. Le opere realizzate, studiate, sono queste, una chiesa esistente, il ponte di Taranto, un altro ponte molto particolare, adesso lo vedremo, una grotta templare, nella zona di Grottaglie, e un convento. Tutte strutture esistenti quindi, tutte strutture esistenti, tutte strutture complesse, differenti l'una dall'altra, quindi ognuna di loro ha una diversa complessità. Allora, qui andiamo molto veloci, qui è un po', c'è nell'articolo poi, per chi è interessato, un po' tutta quella che è la procedura di rilievo, non mi voglio soffermare molto su questo. Quindi tutto ciò che è stato necessario per ottenere la nuvola di punti, attraverso il drone, attraverso stazione totale, attraverso una serie di procedure, io le ho messe per complezza, quindi il rilievo è fondamentale, ovviamente in questa fase, quindi se l'operazione deve essere quella della nuvola di punti, è fondamentale ovviamente avere gli strumenti giusti, e per questo devo ringraziare la professoressa Costantino del Politecnico di Bari, con la quale abbiamo collaborato, è l'università stessa che ci ha fornito ovviamente tutto il materiale necessario per poter svolgere in maniera veramente completa il rilievo e la restituzione della nuvola di punti. Quindi qui sono elencate tutte le procedure, ripeto, per chi è interessato ci sono poi degli articoli ad hoc. Allora, in questo caso soffermiamoci di nuovo, prima abbiamo visto le immagini reali delle strutture, queste sono già le immagini delle nuvole di punti, ovviamente l'unica nuvola di punti che avete visto già prima era questa, la grotta, non potevamo fare diversamente. Quindi quelli che stiamo osservando adesso sono già nuvole di punti importate nei programmi specifici. Allora, generazione di mesh. Abbiamo detto che le procedure sono tante, sono di diversa complessità. La prima procedura è quella di ottenere una mesh, abbiamo detto. Per ottenere la mesh dobbiamo prendere la nuvola di punti e utilizzare dei programmi specifici, quindi bisogna utilizzare, in questo caso, MeshLab o MeshMixer. sono degli strumenti molto spinti di gestione delle mesh in grado poi di crearci praticamente una mesh ben strutturata, che però noi possiamo importare in Rino, fare diverse operazioni sulle mesh, non mi soffermo su questo, quello su cui mi voglio soffermare invece è questa fase qua. Rino ha un'importante funzione, che è quella della riduzione della mesh. Una mesh molto dettagliata sarebbe ingestibile, sia per noi come strutturisti, quindi nei programmi di calcolo, ma anche la sua pesantezza, non ci permetterebbe di fare tante operazioni che a noi necessitano. Senza perdere di dettagli, si deve fare una riduzione di questa mesh. L'ingegner Serpieri è molto, ho tratto spunto molto dall'ingegner Serpieri, che aveva trattato anche questa parte. le mesh triangolari così ottenuti, quindi vengono trasformate, questa è una novità di Rino, questa mesh non solo viene ridotta, viene anche trasformata in una tipologia di mesh quadrangolare. La mesh quadrangolare poi viene trasformata in una superficie NURBS, quindi si hanno questi passaggi successivi ben strutturati. Il nuovo modello 3D, quindi, è stato esportato come? per entrare in FEA attraverso un linguaggio quindi Parasolid, Step, Iguess, e il nuovo modello 3D, quello che abbiamo ottenuto, può essere sempre, ovviamente, attraverso le due procedure di cui abbiamo parlato, entrare in Revit, come LAS, o attraverso Grasshopper. Quello che succede è questo, una prima parte della procedura, abbiamo ottenuto un oggetto, questo oggetto lo possiamo importare in Revit, questo è il formato LAS, è la tipologia formato LAS. Cosa faccio? Posso sfruttare gli oggetti parametrici di Revit, che sono, per esempio, gli oggetti parametrici legati alla realizzazione delle volte attraverso punti di riferimento, prendo questi oggetti parametrici e li vado proprio a attaccare a quella che è la geometria che mi sono importato in Revit. In questo modo sfrutto le famiglie di Revit, questa è una procedura. Sfrutto, quindi, la posizione, proprio la geometria per creare i piani di sezione longitudinali e trasversali. ed è quello che stiamo vedendo adesso. Ovviamente, l'altra cosa che posso fare, prendo il modello che ho creato in Rino e lo importo direttamente a questo punto in FEA, con gli AIGES, gli step, i diversi formati. A questo punto posso partire con la mia analisi strutturale. Quindi, faccio fare una mesh direttamente al programma, è bene che sia il FEA a fare la mesh, perché noi abbiamo importato una geometria, a quel punto parte tutto il nostro iter progettuale, i nostri calcoli, l'applicazione dei carichi, l'applicazione dei vincoli, lo studio, praticamente, della materia, la possibilità di sezionare l'oggetto, di studiare nel dettaglio, l'analisi, ovviamente, di cui abbiamo necessità. In questo caso, semplicemente un'analisi di deformazione. Qui nasce, invece, la necessità di utilizzare tutti e due i metodi. Essendo questo un caso molto complesso, la grotta templare, qui abbiamo il passaggio nei programmi che gestiscono le mesh, con tutto ciò che si portano dietro. Non sto qui, diciamo, a indagare su questo. Ci sono degli articoli specifici fatti col Politecnico per chi è interessato a queste procedure. La trasformazione in mesh, quindi, qua siamo già dentro Rino, qua siamo già in Rhinoceros, e questa è già una mesh quadrangolare, non vi ho fatto vedere quella triangolare, questa è già quadrangolare. Da questa, attraverso poi delle procedure, questa poi viene ridotta del 70%, poi c'è una procedura che ci permette di determinarne direttamente la NURBS, una superficie geometrica gestibile. Quindi, il processo... Cristian, scusami. Dimmi Paolo. Ti fermo un secondo, perché vorrei a questo proposito lanciare un una prima, un primo sondaggio che ha a che fare con proprio questo tipo di software di cui tu hai parlato, perché noi normalmente questi webinar, in questi webinar parliamo spesso di software di calcolo strutturale, ma oggi con te stiamo entrando molto tecnici su dei software particolari. Io li ho chiamati software parametrici, però diciamo sono dei software di CAD tridimensionale anche parametrico molto avanzati e volevo chiedere ai partecipanti che vedo che stanno già votando e li ringrazio, invito tutti a farlo, ho provato a dare io delle risposte che se non votate diciamo se non votate vuol dire che non è nessuno di questi ma se avete voglia di comunicarci altre alternative che state utilizzando scrivetele pure nella chat perché così poi io le condivido insomma se avete piacere che la community condivida queste informazioni appunto Cristian non so se tu lo vedi il sondaggio parliamo di Revit con Dynamo oppure Inventor parliamo di Inoceros con Egrasopper parliamo di SketchUp di Solid Edge di Tecla insomma ho provato a elencare un po' di cose ecco qualcuno ecco Stefano in questo momento mi sta scrivendo Archicad l'ho fatto in una domanda successiva nella quale ho detto però forse avete ragione chi usa Archicad io ho fatto in una domanda successiva nel quale ho detto quali software BIM utilizzi e lì ho scritto anche se non vado errato ho scritto anche Archicad però effettivamente qualcuno potrebbe potrebbe fare diciamo potrebbe non essere d'accordo su questa schematizzazione però è bello anche perché questo è un argomento nuovo dove le schematizzazioni tipologiche possono essere discusse bene il ventaglio è abbastanza ampio in questo caso il ventaglio di programma è molto ampio ecco io allora chiudo il sondaggio perché la maggior parte di voi ha votato poi alla fine nella parte finale condividerò le percentuali di risposta intanto chiudo questo sondaggio e dopo anche a Giovanni rispondo direttamente vedo che mi scrive anche lui grazie grazie anche a Stefano che ha scritto in chat direi che ti lascio proseguire Cristian con la tua presentazione perfetto va bene allora qui siamo entrati già in una tipologia di procedura diversa nella quale incomincia a delinearsi una nuvola di punti integrata in Rino e attraverso un plugin che si chiama Arena di Vesus si può opportunamente ruotare nello spazio la nuvola di punti e gestirla in diversi modi e poter in questo modo incominciare a sezionarla attraverso piani comunque orientati nello spazio per l'ottenimento di quelle polilinie che poi sono la base per la creazione di superfici NURBS 2D e di soliti 3D attraverso poi tutti quelli che sono i comandi booleani che ci permette di utilizzare il programma quando la complessità delle superfici 2D è diventata notevole poi vedremo le immagini dei ponti insomma di alcuni edifici c'è stata la necessità di creare di utilizzare degli strumenti ancora un po' più tecnici della Evolut che sono dei plugin specifici per la realizzazione di comandi come il loft in grado di autoadattarsi quindi ci si è dovuto di spingere anche un po' più in là addirittura rispetto alle capacità di Rino la superficie così trattata quindi diventa una superficie NURBS e nuovamente abbiamo le solide nostre possibilità di andare nei programmi di gestione quindi una struttura abbiamo visto prima la gestione della grotta come mesh questa invece è la nulla di punti importati in Rino dove si evincono i diversi tagli effettuati con i piani la creazione attraverso questo plugin un po' spinto di loft evoluzione di comandi per la generazione di superfici complesse questo è invece il caso studio del ponte di Taranto nel quale quello che vediamo in alto è già la nulla di punti nell'immagine successiva già possiamo vedere tutti gli oggetti solidi creati con Rino in sottofondo quindi ciò che vedete in verno in rosso sono già gli oggetti creati perfettamente adagiati alla struttura esistente questo poi nelle immagini successive si vedono proprio invece gli elementi strutturali creati con il programma Rino e al contrario nell'ultima immagine abbiamo la geometria creata in Rino e in sottofondo abbiamo una nuova di punti quindi in questo caso possiamo vedere la perfetta gestione delle geometrie su un edificio abbastanza complesso cioè su una struttura abbastanza complessa quello che accade è poi il famoso passaggio da Rino a Revit quindi nel momento in cui devo gestire il ponte per questioni di manutenzione perché voglio gestirlo in Revit faccio un passaggio faccio riconoscere questo è un nodo fondamentale su cui anche noi come università stiamo spingendo molto questo all'interno di Grasshopper è un punto cruciale io in questo momento sto facendo riconoscere ogni elemento strutturale che ho creato in Rino l'ho fatto riconoscere al programma Grasshopper e l'ho lanciato in Revit quindi Revit ha percepito la presenza di oggetti qui si potrà fare tanto nel futuro qui potremo creare l'oggetto pila del ponte gestirlo parametricamente e mandarlo adesso sono masse generiche o sono pilastri ma non pila quindi qui si può lavorare molto per il futuro la geometria creata può essere importata come geometria in FEA questo passaggio io che ci sto diciamo lavorando molto ultimamente su queste cose è molto delicato la geometria deve essere ben fatta deve essere ben strutturata deve essere ben analizzata in modo che poi il passaggio successivo che è la mesciatura nel programma FEA perché la mesciatura va fatta nel programma di calcolo strutturale sia congruente perfettamente congruente quindi ogni oggetto la pila con l'arco con la sovrastruttura sia tutto perfettamente congruente qui c'è un'immagine della congruenza dove tutti i nodi della mesh devono perfettamente coincidere passiamo a un altro caso questo è un altro ponte molto complesso questo è stato trattato con la procedura mesh attraverso mesh mixer qua ci sono tutte delle analisi che vengono fatte nel programma di mesciatura e questo programma addirittura è in grado di chiudere i vuoti e quindi è in grado di andare a chiudere tutti quei vuoti che si sono creati a causa della presenza della vegetazione ovviamente questo è un bene noi non possiamo andare a toccarlo ciò che possiamo fare è rilevarlo con tutti i metodi che conosciamo aggiungiamo a questo elemento questo elemento può essere come al solito gestito in questo modo ed è una strada procedura 1 o può essere gestito secondo quella che è la procedura 2 nella procedura 2 qui c'è stato bisogno di spingersi con i plugin dell'Evolute perché tutte le parti del ponte dovevano essere costruite ad hoc quindi tutte le sezioni del ponte sono state costruite ad hoc si sono poi le superfici NURBS perfettamente adattate alle volte quindi alla volta delle strutture delle pile completamente irregolari qua ci sono delle immagini dove si vedono proprio le superfici che sono state create adattate poi attraverso tutti quelli che sono gli strumenti di estrusione direttamente sull'oggetto quindi si vede la nuvola di punti e si vede l'oggetto parametrico costruito qui abbiamo praticamente spento una nuvola di punti e rimane l'oggetto parametrico costruito può essere esploso una sonometria esplosa preso in formato SAT importato in Revit in Revit fatte riconoscere le geometrie per quello che è il bagaglio attualmente presente tutto quello che si poteva fare è stato fatto e vengono poi in Revit applicati materiali fisico con le caratteristiche fisico-termiche quindi siamo entrati in Revit con questi elementi qui c'è qualcosa in più qui c'è qualcosa in più quindi quella famosa parametrizzazione degli oggetti attraverso Grasshopper che cosa ci permette di fare? di costruire l'elemento dettagliandolo nella maniera più precisa possibile creare degli elementi temporanei direttamente in Grasshopper come strutture provvisorie oppure andare addirittura a fare degli interventi di rinforza attraverso fibre e casseri strutturali quindi questi sono elementi che non sono stati creati in Rino questi sono elementi che sono stati creati in Grasshopper ma che fanno parte di Rino e che fanno parte del progetto quindi continuamente c'è un continuo a unirsi delle nuvole di punti degli oggetti esistenti dei possibili interventi tutto questo ovviamente può andare in FEA tutto questo ovviamente può andare in Rino e da Rino può andare ovviamente in Revit attraverso Grasshopper queste sono delle parti che sono state poi inviate in FEA inviate in FEA la geometria una parte di queste geometrie sono state separate giusto per vedere nel dettaglio importate in FEA mesciate stessa cosa anche qui qui possiamo vedere l'applicazione dei materiali dei materiali a queste a queste parti strutturali con tutte le caratteristiche ovviamente che FEA ci permette di fare e qui arriviamo invece al caso studio lavoro questo diciamo che è un progetto realmente depositato al Genio Civile questo è un lavoro che riguarda quella procedura numero 3 abbiamo un prodotto che arriva da Revit che arriva da Archicad che arriva insomma da un programma che gestisce modelli dimensionali l'obiettivo è quello di importarlo in Rino per poi attraverso Grassoper per gestirlo per gestirlo adesso apriamo una parentesi innanzitutto ringraziamo gli ingegneri che hanno partecipato che hanno collaborato con me alla realizzazione diciamo dell'intervento che è l'ingegner Pino Palermo e i due poi committenti gli ingegner Rutilio e Turlione che ci hanno fornito il modello Revit non poche difficoltà non poche difficoltà nella realizzazione di questo progetto perché gli elementi realizzati architettonicamente dovevano poi essere trattati come oggetti da dover trattare come FEM quindi lo studio di tante accortezze il controllo di tante superfici qua abbiamo un edificio con tantissime volte di ogni tipo queste volte scusate i termini non avevano una perfetta congruenza risultavano non manifold alcune mesh di queste sono state dovute trattare quindi il rino quindi qui certe volte all'interno di rino c'è la possibilità di fare tante manovre sugli oggetti esistenti quindi un oggetto BIM può arrivare essere perfettamente congruente con la realtà però c'è bisogno di rimaneggiare di aggiungere in questo rino è molto molto preciso tutti questi passaggi ovviamente questa volta il passaggio è da Revit a rino sono stati fatti sempre con grasshopper tenendo sotto controllo tutti gli elementi creando layer per ogni elemento layer per le volte per le murature per la parte strutturale della torre la gestione completa la gestione completa del progetto quindi non un semplice passaggio ma un controllo a questo punto l'oggetto arriva in FEA qui vista la necessità di studiare i cedimenti a lungo termine è stata fatta la modellazione anche di tutto il terreno intorno al convento FEA dà la possibilità di fare uno studio veramente dettagliato su questi edifici esistenti è stato fatto lo studio del quadro fessurativo a carichi verticali sotto sisma attraverso analisi pushover qui per esempio si vede il quadro fessurativo legato anche alla dimensione della fessura un dettaglio della scala modellata in cemento armato su una volta con anche questa parzialmente in cemento armato questa una volta in muratura quindi un dettaglio qui si possono vedere tutti gli elementi importati in FEA e poi mesciati in FEA qui ripeto non poche difficoltà in questi oggetti bisogna stare molto attenti alla geometria quando si opera su questi su questi elementi qui abbiamo un dettaglio delle armature delle parti in cemento armato perché in FEA se si vuole si può modellare il cemento armato armato quindi bisogna però modellare le armature qua sono state modellate le armature delle travi e dei pilastri e della soletta che erano presenti in questa struttura che è totalmente in muratura ma una parte era gestita in cemento armato qui invece possiamo vedere l'analisi di un intervento su quella che era la torre sulla torre fatta con degli elementi in acciaio e qui c'è tutto lo studio fatto per la gestione dei risultati riguardo l'intervento ottenuto quindi la realizzazione della curva di capacità dal programma FEA l'utilizzo di un software esterno che ci serve per la realizzazione della bilineare per il controllo dei coefficienti di sicurezza e qui possiamo vedere invece alcune peculiarità di quelli che sono stati i materiali utilizzati in questo caso è stato fatto un'analisi con energia di frattura per verificare poi lo stato tensionale e lo stato diciamo sia prima che dopo l'intervento della torre praticamente l'obiettivo di questa di questa procedura renderla sempre più automatica ora l'intervento diciamo del professionista è molto forte si tenderà ovviamente ad automatizzare questi passaggi e come ho detto prima l'altro passaggio molto importante che bisogna fare è trasformare molti di questi oggetti che si trovano all'interno di questi programmi attraverso il linguaggio IFC tentare di parametrizzarli il più possibile già dall'inizio quindi renderli parametrici creare una libreria in modo che quando ci poi il passaggio avviene nel programma di calcolo quell'elemento è già gestito questo è diciamo il futuro e ciò che noi vogliamo raggiungere sia come come politecnico e sia diciamo alla fine come professionisti del campo io Cristian grazie abbiamo qualche domanda però prima volevo ancora lanciare una seconda siccome abbiamo siamo entrati nel tema del software di analisi numerica volevo chiedere ai nostri ai nostri partecipanti a questo seminario sono più di 50 volevo chiedere anche a loro di dirci quale quale sono i software che utilizzano di più per capire anche poi tu ovviamente Cristian se io qua ho scritto per esempio Midas per quello che mi riguarda che il software che conosco ovviamente meglio di Midas ce ne sono diversi Midas Gen Civil GTS FEA tu qua sei hai lavorato prevalentemente con Midas FEA no? corretto? in questi lavori GTS FEA sì GTS FEA perché condividono più o meno lo stesso approccio metodologico di analisi elementi finiti prevalentemente di volume bene ho visto che hanno la maggior parte di voi ha votato chi non ha votato immagino che abbia altri software e se se volete condividere ecco dateci ecco grazie Giovanni che ha iscritto hyperspace che è un altro ottimo software e anche sofistic complimenti e poi vediamo un po' se c'è dell'altro ma chiudo questo sondaggio per avviare un ulteriore ed è quello che dicevo che vi anticipavo prima era allora software parametrici dai software diciamo più tipo Rhino tu Christian entri nei software di tipo BIM e dai software di tipo BIM vai verso i software di tipo FEM oppure ci vai direttamente dai parametrici e anche qua chiedevo a tutti quanti se utilizzate perché non è detto che la utilizziate una piattaforma BIM infatti ho messo anche l'ultima opzione è nessuna che vedo che è selezionata da molti di voi non è detto che necessariamente si passi attraverso una piattaforma BIM e quindi c'è la necessità di andare direttamente da un software parametrico di modellazione geometrica al software FEM in questo caso passando le informazioni della Mesh e su questo c'è anche poi una domanda che ti vorrò fare bene tutti voi avete votato anche questo sondaggio grazie vado all'ultima domanda ed è un po' un'idea per capire quale opportunità porta di lavoro concreto che opportunità di lavoro e di consulenza vedete nel building information modeling per gli edifici esistenti per l'heritage per tutto ciò che riguarda lo storico il patrimonio storico e quant'altro come la vedete qual è la vostra il vostro outlook vedo che anche qua state votando in tanti grazie vedo che in particolare le due ultime mie risposte che avevo impensato che sono quelle più pessimistiche non le state scegliendo quindi mi fa piacere che vediate tutti delle opportunità quindi con le prime tre le prime tre risposte bene anche su questo avete votato tutti quanti chiudo questo sondaggio a questo punto allora Cristian commentiamo assieme i risultati allora per quello che riguarda i software parametrici quali software parametrici utilizzate la mia prima risposta era Revit più Dynamo oppure Inventor c'è tutto il mondo Autodesk comunque si capisce che il mondo Autodesk è molto utilizzato però anche Rhino Ceros con la sua piattaforma diciamo numerica Grassoper 17 e anche SketchUp è molto utilizzato Solid Edge ho provato a vedere se qualcuno poteva essere interessato oppure utilizzato ma vedo che Solid Edge non è non è un software per l'ingegneria civile comunque e poi c'è un po' di tecla questo torna anche a te Cristian come come ripartizione si 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 corretta si e poi relativamente ai software fam beh ovviamente non perché sia il più utilizzato Midas ma perché il nostro database attraverso il quale invitiamo a partecipare a questi seminari è quello prevalentemente di clienti Midas quindi Midas però c'è un buon 18% di SAP 2000 e anche Master SAP software magari un po' più dedicati alla alle analisi di elementi travi di elementi piastra oppure come volete chiamarli elementi shell però ecco diciamo che quello che oggi tu hai mostrato Cristian ribadiamo è più verso la classe di la suite di software Midas relativa alla tridimensionalità più spinta cioè il Midas BANX e GTSNX che tra l'altro oggi sono il fatto ormai un unico prodotto perché si possono fare contemporaneamente analisi tecniche analisi strutturali quindi ovviamente fortemente tridimensionali e poi la piattaforma BIM anche questo ovviamente c'è una buona prevalenza di Revit una piccola prevalenza di Alplank almeno sui partecipanti di oggi questo non ha un valore assoluto una discreta partecipazione del software hack e poi però c'è una buona metà quasi una metà che non utilizza ancora una piattaforma BIM ovviamente dobbiamo crescere da un lato ma dall'altro l'applicazione che hai mostrato oggi Cristian porterebbero anche idealmente a creare una piattaforma BIM apposita per il mondo degli edifici esistenti forse non lo so come la vedi tu questa cosa io questa cosa la vedo il patrimonio italiano è fatto ormai di strutture esistenti patrimonio culturale i nostri beni culturali ma anche ponti e come ti dicevo prima Paolo riuscire in qualche modo a lavorare su quel nodo che è la gestione IFC di elementi standard potrebbe essere il futuro dell'automatizzazione attualmente molto è legato al progettista alla modellazione che il progettista fa nei programmi di modellazione tridimensionale e quindi diciamo lì c'è un piccolo nodo da risolvere quindi diventa per pochi ancora la gestione di tutto questo perché ripeto l'automatizzazione effettivamente poi alla fine è molto bassa però ci sono delle strategie in corso che ci permetteranno sicuramente di automatizzare il più possibile il procedimento è ovvio che sono strutture altamente irregolari da quei ponti che abbiamo visto alla grotta ma anche allo stesso convento parliamo di strutture che hanno necessità di un flusso più articolato di uno studio più dettagliato dove non basta veramente lavorare con un solo software bisogna lavorare con più software e ci vogliono anche più competenze è un po' come quando al genio civile ti chiedono due calcoli strutturali con due software differenti quando il lavoro diventa importante hai bisogno di due calcoli e qui è un po' come se su alcune opere saper gestire più di un programma aiuta molto perché da una parte c'è un programma che fa un po' più spinto sulla produzione di modellazione l'altro è robusto funziona bene ora sto parlando sia di Rino che di Revit saperli diciamo utilizzare entrambi aiuta molto aiuta molto nella gestione di diciamo ed edifici esistenti complessi stiamo parlando ovviamente di questo tipo di opere bene bene avete visto nel frattempo mentre Cristian parlava anche quella il sondaggio diciamo sulle opportunità dove comunque la totalità di voi partecipanti a questo evento avete segnalato che o nei prossimi mesi o già ora o nel breve cioè qualche anno comunque questi saranno gli argomenti che affronterete come lavori e come consulenze quindi è importante importante questa cosa poi tra le domande tra le domande Giovanni per esempio chiede nel campo delle infrastrutture viarie ponti e viadotti si sta facendo qualcosa beh intanto Cristian da parte tua quello che riguarda le tue esperienze sul ponte di Taranto ponte storico ad Arco anche se in Cancestruzzo vero? una parte in muratura e una parte in Cancestruzzo e quindi quello beh insomma sul fronte noi abbiamo fatto diversi webinar che invito tutti andare a vedere per quello che riguarda il nuove piattaforma per il BIM per le infrastrutture di Midas Midas CIM però a oggi molto si è tentato di fare con con Revit per esempio anche con Alplan anche con lo stesso Tecla la tua Cristian tu come come vedi questo settore? Il settore è forse tra i più importanti in questo momento in questo momento storico e anche in questo campo come dicevo prima secondo me da parte delle università ci vuole una spinta più forte bisogna utilizzare il linguaggio IFC bisogna andare a creare una set di elementi che permettano soprattutto per i ponti di avere un riferimento quindi la modellazione diciamo molto spinta parametrica va benissimo quello che il lavoro diciamo presentato oggi si va in quella direzione però anche creare una piattaforma dove ci siano elementi che il più possibile si possano gestire elementi fondamentali di un ponte sarebbe un'ottima partenza per il futuro secondo me bene io consiglio anche la lettura dei numeri di digital modeling che adesso scrivo anche nella chat in particolare il numero 17 dove ci sono appunto sto segnalando i numeri di di structural e digital modeling sapete la rivista ha cambiato ha cambiato nome nella sua vita ormai dieci anni è sempre scaricabile gratuitamente dal sito cspfea quindi non avete nessun nessun costo ci sono degli articoli che trattano proprio visti da molteplici autori anche Cristian ne ha scritto uno e ne scriverà ancora ne pubblicherà ancora su questa nostra rivista e ti ringrazio come per il tuo lavoro come autore Cristian sei preziosissimo per per noi e il numero 17 li scrivo anche mentre ve li dico il numero 18 lo scriviamo anche così rimane nella nella chat 18 il numero 20 numero 20 il numero 21 21 e il numero 26 li pubblichiamo e li mettiamo in via a tutti dovreste poterlo vedere spero che lo vediate correttamente dopodiché Alessandro ci diceva sì Alessandro ci diceva ci segnalava anche altri software Abacus caspita Alessandro stai segnalando un software potentissimo per qualsiasi tipo di analisi di qualsiasi complessità un po' costosetto però software molto utilizzato nell'ambito della ricerca e poi ci segnalavi tu stesso anche il problema del costo delle licenze chiaramente più software ci dotiamo però devo dire Cristian che Rhino per esempio non è un software molto esoso insomma no 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 Rhino non è un software molto costoso è sempre in continua evoluzione ormai anche nell'utilizzo di alcuni prodotti Autodesk come Revit se non mi sbaglio c'è la possibilità di più che acquistarlo anche di noleggiarli se non se non mi sbaglio però nel nostro nel nostro lavoro oggi dove l'amministrazione pubblica ci chiede il BIM dove per fare un qualsiasi progetto pubblico siamo quasi non voglio dire costretti perché lo saremo tra un paio di anni però stiamo andando verso questo quindi la collaborazione tra progettisti può aiutare molto un mio collega al Revit o Rhino possiamo collaborare insieme e andare avanti però fornirsi di questi software secondo me oggi è importante se si vuole crescere e se si vuole offrire un prodotto buono un prodotto diciamo che abbia tutta questa evoluzione di che abbiamo visto oggi è legata all'utilizzo di di tanti piccoli tasselli immaginiamo che quello che è stato fatto oggi può essere fatto da tanti progettisti e da tanti del settore ci sarà chi si occuperà soltanto del rilievo è ovvio che essendo un lavoro portato avanti anche con lo spin off del Politecnico ci siamo sobbarcati noi di tutto il lavoro però normalmente potrebbe essere che la nuova di punti arriva da da un professionista il modello 3D arriva da un altro professionista quindi noi dobbiamo occuparci anche solo parzialmente di alcuni tasselli di tutto ciò che abbiamo visto oggi quindi potremmo essere partecipanti per una parte di tutto il processo il processo è lungo e molto complesso se lo vogliamo fare da soli però se vogliamo collaborare con altri progettisti o prendere parti di questo percorso ci muniamo ovviamente degli strumenti che ci servono nello specifico sì bene bene grazie grazie Cristian mi sembra che non sì dunque allora no allora non si leggono i messaggi in chat per cui allora faremo così Giacomo che mi ci scrivi che non leggi i messaggi in chat allora io sto leggendo quelli che sostanzialmente arrivano da voi a me e li vedo probabilmente voi non avete ricevuto il messaggio che ho mandato con il il mio suggerimento vediamo un po' se riesco a trovare il modo no facciamo così lo vi vi invito vediamo se riusciamo a lanciare nuovamente il nostro sito e quindi a condividere lo schermo principale ispfea punto net dunque 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 vediamo un po' dovrò darmi la priorità di relatore e lo sono Cristian tu vedi il mio schermo attualmente no io vedo la base della mia presentazione adesso 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 vedo ok ok allora vi do questa indicazione vedete sul menu formazione del nostro sito c'è proprio digital modeling ci andiamo e qui trovate tutti i numeri tutti i numeri anno per anno e quindi come vi dicevo prima i numeri che possono interessare su questo argomento sono il 17 il 18 il 20 il 21 e il 26 potete tranquillamente scaricarveli li trovate sotto sotto ogni anno vedete si aprono ecco per esempio il numero 20 il numero 21 che vi ho citato il numero 17 il numero 18 anche il numero 16 in realtà adesso che lo vedo qui dove la nuvola di punti era relativa allo scheletro del mammut quindi anche questa era una applicazione molto molto di nicchia ma molto interessante per vedere il il workflow sì direi che questi spero che in questo modo possiate possiate vederli dopodiché Ida sì il webinar sarà rivedibile tranquillamente lo vedrete dal canale YouTube e e quindi il canale YouTube di CSPFEA lo vedrete pubblicato credo nel giro di 24 48 ore Giovanni ci scrive Cristian Giovanni ci scrive bisogna ritornare alla parcella ovviamente facendo riferimento al fatto che i servizi che ci vengono richiesti saranno sempre più ad alto valore aggiunto e non necessariamente pagati siamo siamo d'accordo su questo siamo d'accordo vero vero e poi Cristian ecco questa questa è una una stoccatina per te in qualità di docente universitario bisognerebbe adeguare anche i corsi universitari per il BIM ma qualcosa si sta facendo no Cristian allora a livello universitario io faccio parte dello spin off che è un ramo non legato direttamente alla docenza lo spin off è proprio è il ramo applicativo dell'università nel contesto che lega il contesto professionista col contesto della di quella che è l'università proprio lo spin off nasce proprio per gestire queste situazioni proprio con Paolo l'anno scorso prima della che ci fosse diciamo la pandemia avevamo organizzato al Politecnico di Bari di Taranto e a Lecce ti ricordi Paolo un evento formativo cioè quello che noi oggi stiamo facendo in questo modo doveva essere proprio il il modo per attirare i ragazzi e farli vedere queste nuove potenzialità e quindi far nascere in chi praticamente può gestire queste queste cattedre all'università questi nuovi questo nuovo settore quindi l'idea era quella proprio di creare una cattedra specifica per gli ingegneri per gli architetti che gli permettesse di gestire prima di arrivare nel mondo del lavoro quindi c'è la volontà ovviamente di fare questo ci sono delle università come quelle per esempio di Roma o dei colleghi miei che sono riusciti ad aprire un corso di Grasshopper per esempio quindi sta tutto poi sta tutto in quella che è la volontà ovviamente con quello che avremmo fatto in presenza avremmo dimostrato all'Ateneo visti i partecipanti che l'interesse c'era quindi è fondamentale far capire innanzitutto che c'è un interesse e poi ovviamente l'organizzazione dell'università deve creare nel piano di studi delle cattedre nuove che si devono andare a inserire in quello che il portafoglio di esami che abbiamo fatto un po' tutti e che poco ancora si discosta da quello che c'è oggi andrebbe fatta una rivoluzione anche da questo punto di vista perfetto Cristian allora abbiamo terminato le domande io ti ringrazio tantissimo per questa ottima presentazione vedremo anche di pubblicare qualcosa su digital modeling anche di questa esperienza c'è già un tuo articolo che hai sottomesso alla nostra redazione che quindi sarà pubblicato a breve e un'altra cosa che ti chiederò sarà proprio quello che dicevo all'inizio di aiutarci a addestrare il nostro assistente virtuale Minerva anche a qualche domanda quindi ti chiederò di aggiungere qualche metti 3-4 domanda risposta rispetto a quello che hai raccontato oggi che permetterà poi a Minerva di rispondere una breve risposta e poi per approfondimento indirizzare come abbiamo visto al video di questa presentazione quindi aiuterà anche chiederemo anche il tuo aiuto per addestrare dopo che hai addestrato studenti universitari addestrerai anche un assistente virtuale grazie a tutti della partecipazione ci vedremo a breve già la settimana prossima con ulteriori Elite Webinar e continuate a seguirci e a questo punto grazie Cristian io lancio la sigla di chiusura grazie a te Paolo arrivederci grazie a te grazie a te